Un promontorio di alta pressione protegge la penisola dalle perturbazioni atlantiche. Una saccatura più intensa è prevista transitare il 2 gennaio con precipitazioni diffuse. In Toscana venerdì 1 gennaio sereno poco nuvoloso, tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa. Venti deboli orientali in rotazione da scirocco dal pomeriggio lungo la costa con locali rinforzi in serata. Mari poco mossi in aumento fino a mossi dal pomeriggio sera a largo. Temperature minime stazionarie in locale calo con valori prossimi allo zero. In pianura al massime in lieve aumento con punte di 14 gradi. Sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata. A Lucca e sulla Piana temperatura minima 0 massima 13 gradi. In Versilie sul litorale minima 4 massima 13. In Garfagnane zone montane minima 0 massima 12 gradi. Deciso peggioramento sabato con pioggia anche di forte intensità nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri.